Salve a tutti illustri rappresentanti del popolo di YouTube. In questa prima lezione di psicologia generale tratteremo la psicologia e la sua storia. La psicologia si occupa dello studio scientifico del comportamento e dei processi mentali. È una parola che deriva dal greco psuche, anima, e logos, discorso, quindi studio. Qualunque azione è considerabile comportamento, ma la psicologia si occupa anche di processi mentali come i sogni, il pensiero, il ricordo, che sono comportamenti non direttamente osservabili ma nella loro soggettività condivise da tutti. La psicologia si può dunque considerare una scienza oltre che una professione, una scienza rientrante in quella macrocategoria delle scienze cognitive, in cui tra l'altro rientra anche la filosofia. Perciò la prossima volta che sentirete qualcuno dire che la filosofia o addirittura la psicologia stessa non siano materie scientifiche, potete tranquillamente annoverare quella persona al vostro personalissimo gruppo mentale delle persone che potete definire ignoranti, almeno per quanto riguarda le scienze cognitive. E scienza, in quanto i ricercatori utilizzano niente poco di meno che il metodo scientifico. Dei metodi di ricerca ve ne parlerò alla prossima lezione. In questa ci occuperemo in breve della sua storia e delle sue più importanti correnti di ricerca, dando spazio anche al quadro italiano. La nascita della psicologia, malgrado se ne occuparono molti filosofi anche precedentemente, può essere considerata risalente all'incirca 140 anni fa, nel 1879, quando Wilhelm Wundt, il padre della psicologia, creò all'Ipsia in Germania un laboratorio per studiare l'esperienza conscia. Qui Wundt, in modo sistematico, misurò stimoli diversi, dove con stimolo si può definire qualsiasi tipo di energia fisica che eserciti un condizionamento su una persona e determini una risposta. A causa della mancanza di metodi e forse anche delle conoscenze adeguate, il metodo di Wundt si basava esclusivamente sull'interospezione sistematica. Una tecnica di autoosservazione e di descrizione minuziosa di ciò che gli stesso provava e percepiva sotto l'esposizione di stimoli differenti. Tra gli studi più importanti, vi sono quelli su vista, udito, gusto, tatto e percezione del tempo. Così facendo aprì le porte, grazie ai tanti interrogativi derivanti dai suoi studi, alla psicologia. Con la diffusione di alcune idee di Wundt negli Stati Uniti, Edward Tichner fondò la corrente dello strutturalismo, cercando di analizzare gli elementi di base, o blocchi costitutivi della psiche, e la relazione tra questi nella percezione e nell'esperienza conscia. Gli strutturalisti continuarono ad usare l'introspezione, che però si rivelò loro essere uno strumento poco adatto a rispondere a molti loro interrogativi, in quanto spesso sulle loro osservazioni dissentivano tra loro, senza poter risolvere però le controversie, proprio a causa dell'utilizzo condiviso dell'introspezione, che nonostante tali limiti risulta essere ancora un valido strumento ad esempio per lo studio e l'ipnosi, della meditazione, del problem solving, dell'umore e di altri temi. Nel 1890, con la pubblicazione di Principi di Psicologia, William James contribuì a far diventare la psicologia una scienza autonoma, dando vita al funzionalismo, che considera la coscienza come una corrente o flusso di immagini in continuo mutamento, superando l'idea statica degli strutturalisti. I funzionalisti si rifacevano alle teorie evoluzionistiche di Darwin, vedendo, secondo il principio della selezione naturale, la percezione, le abitudini e le emozioni come strumenti che ci aiutano ad adattarci e a sopravvivere nel nostro ambiente. Si concentrarono dunque sullo studio e la psicologia scolastica, ovvero tutti quei meccanismi che permettono l'apprendimento e l'insegnamento. E per le stesse ragioni, dietro vita alla psicologia del lavoro come studio delle relazioni fra persone, ambiente lavorativo e delle organizzazioni. Il funzionalismo fu però ben presto messo in discussione dal comportamentismo, il cui oggetto di studio è il comportamento osservabile. John B. Watson accantonò lo studio della mente e dell'esperienza conscia. Riteneva infatti il metodo introspettivo non scientifico, a causa delle controversie risolte degli strutturalisti. Ha verificato che il comportamento animale poteva essere studiato senza poter, ovviamente, dialogare con essi. Si trattava dunque di osservare le relazioni tra stimoli visti ora come eventi dell'ambiente e le conseguenti risposte. Inoltre si tratta di osservazioni oggettive, verificabili da tutti e non più soggettive. Watson adottò il concetto di condizionamento e qui arriviamo finalmente a citare il fisiologo russo Ivan Pavlov e il suo cane, che scoprì, Pavlov e non il suo cane, che una risposta condizionata è una reazione appresa a un particolare stimolo. Malgrado tutto ciò, le teorie di Watson sono considerate troppo estreme, da qui nasce il comportamentismo radicale. Un altro comportamentista in rilievo a cui si deve una citazione è Skinner, i cui studi sui ratti e i piccioni, con la sua famosa gabbia, contribuirono al concetto di condizionamento operante, di cui parleremo più avanti. Con la critica al comportamentismo radicale, considerato troppo riduzionista, nacque intorno agli anni 40 il cognitivismo, approccio all'interno del quale spiccano nomi famosi come Chomsky, Bandura e tantissimi altri, che associa la cognizione al condizionamento per spiegare il comportamento. Da qui il nome, è che si occupa dello studio dei processi mediante i quali le informazioni vengono acquisite, trasformate, elaborate, archiviate e recuperate. Ma dobbiamo tornare indietro. Intorno al 1912, Wertheimer pubblica i suoi studi sul movimento apparente. Nasce la psicologia della Gestalt, che cominciò proprio con gli studi di Wertheimer sulla discrepanza tra realtà fisica e realtà fenomenica. I Gestaltisti svilupparono il principio secondo cui la nostra esperienza percettiva complessiva va oltre la somma delle parti che la costituiscono. Formuleranno dunque i principi percettivi e contribuiranno allo sviluppo di indagini e modelli teorici, oltre che sulla percezione, sul pensiero, la memoria e l'apprendimento, vedendoli come unità globali senza dividere le esperienze nei suoi costituenti principali. Svilupparono anche il settore della psicologia sociale entrando in conflitto con i comportamentisti e molte teorie sulla personalità sono state influenzate in modo rilevante dall'approccio gestaltista. Facendo un altro passo indietro parliamo dunque finalmente di psicanalisi e psicologia dinamica. Mentre in America la psicologia acquisiva scientificità, un barbuto medico austriaco, di cui parleremo approfonditamente molto presto, pubblicò nel 1900 l'interpretazione dei sogni. Vide quindi la luce la psicanalisi o analisi della mente, la prima psicoterapia fondata sull'interpretazione, su cui secondo Schelder vi sono diversi focus intorno a cui oggi si articola la psicoterapia psicodinamica. Le teorie freudiane furono in parte rimaneggiate dai suoi allievi, i cosiddetti neofroidiani, Jung, Anna Freud che era sua figlia, Adler, Otto Rank, Erickson e tantissimi altri, e dai successivi psicanalisti, tra i quali Lacan e From, ed hanno subito tante modifiche e cambiamenti. Tuttavia il lascito freudiano è ancora enorme ed evidente nelle varie teorie psicodinamiche odierne. Carl Rogers e Abraham Maslow rifiutavano l'idea che l'agire umano fosse governato esclusivamente dall'inconscio, ma dissentivano anche dai comportamentisti, che ponevano l'accento sul condizionamento. Crearono dunque con Blackjack e Squillo di Lusso la psicologia umanistica, approccio che pone l'accento sull'esperienza umana soggettiva, caratterizzata al bisogno di conoscersi, esprimersi e autorealizzarsi. Gli psicologi umanisti si interessarono alle potenzialità, agli ideali e alle difficoltà nel raggiungimento di questi. Misero quindi l'accento sul libero arbitrio e sui bisogni psicologici quali amore, autostima, appartenenza, espressione di sé, creatività e spiritualità, ponendoli al pari dei bisogni fisiologici. La nozione di autorealizzazione di Maslow è un aspetto fondamentale della psicologia umanistica. Autorealizzarsi, secondo Maslow, significa attuare appieno le proprie potenzialità e diventare la migliore persona possibile. Passiamo dunque ora a parlare, spero più brevemente, della psicologia in Italia. Nel 1903 a Firenze Francesco De Sarlo crea il primo laboratorio di psicologia sperimentale. Insieme a lui, Roberto Ardicò, Giuseppe Sergi, Gabriele Buccola, Cesare Lombroso, di cui parleremo quando comincerò a parlare di criminologia, e Sante De Sanctis, diedero un impulso fondamentale all'avvio di questa disciplina nel bel paese. Nel 1905, grazie ai contatti di alcuni di questi, fu affidata a Sergi e De Santis, l'organizzazione del quinto congresso internazionale di psicologia a Roma. E, sempre nello stesso anno, anche la pubblicazione della rivista di psicologia applicata alla pedagogia e alla psicopatologia, il primo periodico rivolto allo studio della disciplina, contribuendo quindi entrambi questi eventi alla diffusione della psicologia in Italia. Aprirono così le prime cattedre universitarie a Napoli, Torino e Roma, quest'ultima assegnata a De Santis, che, con la sua proficua ricerca in vari ambiti e le sue numerose pubblicazioni, attirò l'attenzione addirittura dello stesso Freud, e lo portarono a collaborare con la famosissima pedagogista di fama internazionale Maria Montessori. L'apertura di un'altra cattedra a Padova, nel 1922, fu assegnata a Vittorio Benussi, che si occupò di percezione con un approccio gestaltista, noto come scuola psicologica di Padova. Tra i suoi più importanti allievi si può certamente annoverare Cesare Musatti, di cui, spoiler, tratterò gli iscritti nella rubrica di psicanalisi, non prima però di aver trattato almeno Freud e Otto Rank, che, come avrete già dedotto, abbandonò la psicologia sperimentale benussiana, per diventare uno dei primi e più importanti psicoanalisti in Italia, sia grazie al suo importantissimo trattato di psicanalisi, sia grazie alla direzione delle traduzioni italiane dell'intero corpus freudiano, edite da quella che diventerà l'Abollati Boringhieri. Dopo i primi due ventenni del Novecento, il pensiero neo-idealista dei filosofi Benedetto Croce e Giovanni Gentile, insieme al fascismo, causarono un brusco arresto della ricerca psicologica in Italia. Alla fine della seconda guerra mondiale, Gemelli e Cesare Musatti incentivarono con fatica il rilascio della ricostruzione della disciplina, che portarono avanti insieme ai loro allievi e ad altri psicologi formatisi in diverse università italiane. Nell'anno accademico 1971-72 vennero istituiti i primi corsi di laurea in psicologia nelle università di Roma e Padova, a cui seguiranno tutte le altre sedi, circa 30, per tutta la penisola. Infine, nell'89 fu creato l'ordine degli psicologi italiani con l'approvazione legale dell'Albo. Grazie per l'attenzione, il prossimo video sarà incentrato sulla ricerca e la psicologia.